I cavalli sono in partenza, partiti! Al comando si porta Aig Tornado, presto avvicinato all'interno da Betany e a largo da Dumbaghi che poi sfila a largo e passa in vantaggio. Poco prima dell'imbocco della curva, Betany rimane in seconda posizione all'interno, a largo figura Francis Fashion che precede Aig Tornado che è scivolato in quarta posizione. Dietro seguono Foroneo, Black Manteo, Falc Pulcra, quindi Animalier ed in coda Mr. Rainbow. Cavalli ora all'imbocco della curva con Dumbaghi leader nei confronti di Francis Fashion che risale in seconda posizione. precedendo Betany, quindi Aig Tornado, Foroneo, ancora Falc Pulcra, Black Manteo a largo con in coda Animalier e Mr. Rainbow più staccato. Cavalli ora in retta di arrivo con Dumbaghi in vantaggio allo steccato. Al suo attacco si propone Francis Fashion, i due sono in lotta, trascinandosi all'esterno Black Manteo che ha scavalcato Foroneo e Aig Tornado. Siamo a 350 dal palo, lotta fra Dumbaghi, Francis Fashion e Black Manteo dietro i due Aig Tornado. Siamo a 200 dal palo, Black Manteo attacca a fondo Dumbaghi, i due in lotta, sta passando Black Manteo. e nel finale Black Manteo si impone su Dumbaghi, poi Aig Tornado a terzo posto su Aig Tornado e Fast Pulcra. Andiamo a rivedere questa bella affermazione di Antonio Monteriso in sella a Black Manteo, numero uno dello schieramento a bersaglio nei confronti del numero due Dumbaghi e del numero quattro Francis Fashion. Uno, due, quattro, il probabile e ufficioso arrivo della quarta corsa di Napoli. Grazie a tutti.